Vedete ragazzi, durante quest'estate, quando c'è stato quel periodo di transizione del canale in cui caricavo pochi video e molto diversi tra loro, in realtà ho pensato moltissimo a cosa io volessi fare del canale, ho pensato moltissimo soprattutto a come mai io volessi continuare a fare Pokémon. Perché io rimanessi legato ancora a Pokémon, nonostante tutto, nonostante il crollo del brand, nonostante le delusioni, perché delusioni sono, non ve lo so nascondere, di Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. E badate, non è che volessi distaccarmi dal brand, no, no, io proprio mi chiedevo invece perché non sentissi il bisogno di cambiare. Spesso alle fiere mi capita di sentire discorsi di altri YouTuber, spesso Pokétuber che magari sono passati a fare altri contenuti e molto spesso mi sento dire di cambiare, di provare a portare altro, perché Pokémon muore. E hanno ragione in realtà, nel senso che io penso di condividere appieno le scelte che gli altri fanno. Anzi, di approvarle. E penso che molti potrebbero effettivamente dar ragione a quello che sto dicendo. Eppure, per me non è così. Per me non è così e non riuscirei neanche a portare qualcosa di diverso. Mi ritengo un giocatore molto 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 atipico, perché io dovete sapere che se togliamo Pokémon, che mi ha accompagnato nell'infanzia, nell'adolescenza e mi accompagna adesso che, immerso in questa nuova vita che è l'avere una propria casa, sto muovendo i miei primi passi da uomo. Togliendo Pokémon, i giochi a cui ho giocato, i videogiochi a cui ho giocato, penso si possano contare sulla dita di una mano. Non ho mai giocato... non sono un videogiocatore, ecco. Eppure Pokémon mi è rimasto... mi è rimasto impresso, al punto di essere tuttora l'unico videogioco che mi degno di giocare. E proprio per questo io mi sono sempre chiesto... perché? Soprattutto in questo periodo di transizione in cui ho pensato molto. Perché? Perché Pokémon si e altri videogiochi no? E guardate, non c'entra l'infanzia. Perché io, anzi, non ho avuto un'infanzia così piena di Pokémon. Io l'anime non l'ho mai seguito. Non l'ho mai seguito veramente. Vedevo gli episodi quando capitava. Ma non vi saprei distinguere una stagione dall'altra. Non ho mai collezionato veramente le carte Pokémon. Le compravo perché sì, ma non sapevo giocarci, non le collezionavo. E giocavo al videogioco come ci giocavano tutti, niente di eccezionale. Sì, come tanti bambini, magari volevi andare a Mirabilandia, ma non ci sono mai stato. Non è stato così d'impatto nella mia infanzia Pokémon. E allora... perché? Perché sono qui? Perché ho speso 150 euro di set per portarvi video su Pokémon? Pokémon è un'enciclopedia della vita. Non saprei meglio come definire Pokémon. Ed è una cosa di cui mi sono accorto in realtà per un aneddoto divertente che adesso vi racconto. Sapete che frequento filosofia e uno dei corsi obbligatori è Storia della Scienza. In Storia della Scienza a un certo punto si è iniziato a parlare di alchimia. E lì mi sono reso conto di come conoscessi l'alchimia grazie a Pokémon. Che se lo vai a dire a un adulto cinquantenne ti prende a pesci in faccia. Io ho conosciuto l'alchimia e tutt'ora ho delle conoscenze di alchimia soprattutto grazie a Pokémon. Alcune, citando la teoria di Meltan che ho fatto qualche settimana fa, alcune delle nozioni che ho inserito in quella teoria le ho imparate all'università. Ma tantissime altre cose le ho imparate grazie a Pokémon. Perché mi incuriosiva. Pokémon credo che sia veramente un brand fuori dal comune. Perché se noi lasciassimo Pokémon agli alieni, se domani arrivassero gli alieni e trovassero una civiltà distrutta e avessero in mano una cartuccia Pokémon con tutto quello che c'è da sapere su Pokémon, con tutto lo scibile del mondo Pokémon, saprebbero interpretare la nostra cultura. Perché, signori, sette regioni, più di un centinaio di città, 808 Pokémon, 808 eh, non sono pochi 808 Pokémon e ognuno di questi Pokémon ha la sua storia. Ognuno di questi Pokémon ha la sua ispirazione, che è proveniente da una cultura diversa da quel suo vicino di Pokédex. E quindi mi chiedono, cavolo, come può un brand così vario, come può un brand che ha una varietà così incredibile morire a livello di ascolti, di visualizzazioni su un social, ma in generale nelle vendite, insomma. Perché è un brand che ha questa caratteristica? Io dubito, sinceramente, che esista un altro brand videoludico, in particolare, che abbia la varietà di Pokémon. Non penso che ce ne sia qualcuno. Che abbia 808 possibili variazioni della profondità di un Pokémon. E sulle quali tu puoi gestirti, puoi spaziare. Quindi, magari, ai Kyogre Groudon entri a conoscenza dei testi ebraici. O magari, ai Naintain, se scopri un mondo della cultura giapponese, Naintain, scopri Froslass, potrei farvi 3000 altri esempi di questo genere. Eppure, questo brand sta morendo. C'è un Pokémon, tale signora Arceus, che è arrivato, pensate un po', a esprimere il concetto primordiale dell'uomo una volta che è arrivato a ragionare sulla sua esistenza. Dio. Se un giorno degli alieni arrivassero sulla Terra e avessero in mano Pokémon, e riuscissero, per qualche incredibile mistero, a decifrare ciò che c'è scritto nei giochi Pokémon, entrerebbero a conoscenza di Dio. Saprebbero che noi, come civiltà, possedavamo il concetto di Dio. E scusatemi se è poco. E scusatemi se credo che il brand non sia morto. Certo! È morto, a livello di visual. In questo momento non puoi fare successo con Pokémon. Certo è vero, faccio 500 visualizzazioni contro le 2000 visualizzazioni che facevo prima. Però, questo vuol dire che un brand è morto? O vuol dire forse che non siamo in grado di apprezzarlo? Io penso di averlo trovato il motivo, alla fine. Per cui sono qua a parlarvi di Pokémon. Perché Pokémon non è un brand. Pokémon non è un videogioco. Non è un anime. Non è un gioco di carte collezionabili. Non è un manga. Che a proposito, giusto per entrare in tema, ho qui con me perché nelle mie idee originali c'era di tirarlo in ballo e adesso è arrivata l'occasione. Perché sì. Perché questa era una parte del brand che mi mancava. E siccome me ne hanno parlato come la parte più matura del brand, ero interessato a vedere che cosa nascondesse. Aspettatevi dei video su questi perché probabilmente arriveranno. Per intenderci, per ora sono arrivato davvero a pochissimo del manga. Però, insomma, ci lavoreremo anche su questo. Pokémon non è nessuna di queste cose. Pokémon è un modo di comunicare. Pokémon è, ecco, è fare cultura. Pokémon è fare cultura. Io, nei video, nei concept analysis, nelle teorie, non parlo di Pokémon. Io faccio cultura e Pokémon è probabilmente un tramite che mi permette di fare cultura. Una cultura che è forse quello che mi interessa di più anche in un futuro trasmettere. E penso che sia proprio questo il motivo per cui mi ha legato a Pokémon. Perché mi permette di fare cultura in maniera originale. E questo è il motivo per cui sono qua. Questo è il motivo per cui sono qui con questa forza. con 150 euro di luci spese per portarvi video su Pokémon. Per abbassare di un quarto il mio pubblico parlando di cose più serie. Perché io credo, personalmente, senza fare un torto a nessuno, senza criticare chi invece la vede in maniera diversa, ma io credo che questa sia la vera grandezza di Pokémon. Il fatto che sia un brand in grado di andare a fondo. che in ogni suo aspetto, si può, in ogni suo aspetto, si può giungere a una profondità. E io credo che su Pokémon ci sia bisogno di una riflessione più profonda. Che non basti solo la superficialità con cui molto spesso viene trattato. Certo, ci sta, ci sta. Ed è assolutamente lecita. Ma penso che qualcuno debba dare davvero a Pokémon quello che Pokémon si merita. E scusatemi se nel fare questo ho raggiunto numeri e rapporti di numeri che mi rendono additabile come canale morente. Io non penso di essere un canale morente. Penso di essere un canale che ha cambiato, che sta facendo cultura, che ha deciso di trattare Pokémon in una maniera diversa, che ha deciso di rivolgersi in realtà a una nicchia, probabilmente, una nicchia della nicchia della nicchia, e che di conseguenza è molto meno seguito. Ma non credo di essere un canale morente. E qualora lo fossi mi piacerebbe un sacco morire, essere seppellito come canale, parlandovi di come Spoink si è ispirato a un passo biblico. Questo è il prossimo episodio del Concept Analysis, probabilmente. Grazie. Grazie.